BNI, il cuore dell'imprenditore marchigiano nel business. www.bnimarche.it Eccoci qua nello spazio riservato a BNI. Ormai sappiamo che BNI, BNI o BNI se preferite, vuol dire proprio Business Network International. E allora per questo spazio noi oggi ospitiamo Leonardo Zappanico che appartiene al capitolo di moglie. Intanto ben arrivato qui da noi. Grazie, grazie a voi, buonasera. Allora Leonardo come sei arrivato a BNI e soprattutto che cosa vuol dire appartengo al capitolo? Cos'è il capitolo? Allora io sono arrivato a BNI perché invitato da una persona che conoscevo della mia città a partecipare al capitolo di Ancona in visita come ospite. Questo è successo nel 2017. Già all'epoca avevano chiesto se volessi entrare nel capitolo ma forse per me i tempi ancora non erano maturi, diciamo così. Poi nel 2018, all'inizio dell'anno, girando un po' sul sito di BNI Marche, avevo visto che c'era in costituzione un nuovo capitolo che era a moglie. E ho ricontattato questa persona che conoscevo e mi ha messo in contatto con colui che stava in quel momento organizzando il capitolo. Quindi ho parlato con questa persona, ci siamo visti e a quel punto mi è scattato proprio il desiderio di poter far parte di questo capitolo. E quindi sono stato uno degli otto fondatori di questo capitolo di moglie. Quindi un veterano, diciamo. Sì, diciamo un veterano. Tanti professionisti in Vallesina insieme a BNI. Sì, ci sono professionisti, ci sono anche aziende di produzione perché abbiamo anche nel nostro capitolo aziende di autotrasporti, aziende di vendita di prodotti per ufficio. Quindi il nostro capitolo nel modo particolare, diciamo, cerca di essere un po' variegato da questo punto di vista. Proprio perché permette poi di offrire più possibilità a tutti di creare nuove relazioni, che è un po' lo scopo di BNI. Quello di creare relazioni fra i vari componenti del capitolo, quindi i vari membri del capitolo, ma allo stesso tempo anche creare relazioni sul territorio e quindi creare possibilità di sviluppo per il business di ogni membro del capitolo. E allora si fanno affari in maniera etica, perché questo è il light motive di BNI. E di che cosa ti occupi tu? Allora io sono un commercialista, ho lo studio a Filottrano, il nostro è uno studio ormai da parecchio tempo presente sul mercato, perché nasce nel 68, quindi uno studio di famiglia. Ci occupiamo sia di paghe che di contabilità. Siamo un po', diciamo, uno studio un po' tradizionale, ma avendo abbracciato come spirito proprio di lavoro dello studio, ma anche con il spirito di partecipazione a BNI, quello che è un po' il principio, uno dei principi di BNI che è innovazione e tradizione. Quindi in effetti ci stiamo un po' adattando a quelle che sono anche tutte le nuove esigenze da parte della clientela, quindi l'analisi finanziaria, l'analisi della liquidità aziendale, il supporto alle aziende nella ricerca di finanziamenti, sia a fondo perduto che finanza bancaria. E questo lo facciamo sia con le nostre forze interne, sia con collaborazione con altri professionisti che nel corso del tempo abbiamo creato. È cresciuto il tuo lavoro con BNI? Il mio lavoro con BNI è cresciuto, sì, ho avuto la possibilità di incontrare altre persone, altre attività. Il bello di BNI è che, come dicevamo prima, siamo tutti uniti da un live motive, che è quello proprio del giver's gain, quindi il dare incondizionatamente all'altro, quindi aiutare le altre aziende nello sviluppare la propria attività. E questo poi porta di conseguenza anche ad un ritorno a chi ha cercato di aiutare i propri membri di capitolo. E quindi nuove occasioni di confronto, di crescita, ma anche di lavoro, sì. Grazie Leonardo. Per avvicinarci al tuo studio, come facciamo? Beh, noi abbiamo un sito, il sito è www.studiozappanico.it, poi dove troverete sia l'indirizzo che la mail. La mail è quella generale, segreteria, chioccio, la studiozappanico.it, e sul sito poi troverete anche i ricapiti telefonici per poter mettersi in contatto con me. Poi io personalmente ho anche un profilo LinkedIn con il mio nome e cognome, nel quale sono raggiungibile. Quindi ti troviamo senz'altro. Sì, senz'altro. E poi ti troviamo al capitolo di Moie. Senz'altro. Grazie Leonardo. Grazie a voi. Grazie e al prossimo appuntamento con B&I. B&I, il cuore dell'imprenditore marchigiano. Nel business www.bnimarche.it